Bella tutti rega, qua Orgasmi che sono qui con un altro pack opening di FIFA 16, il primo non è andato come speravo adesso vi porto un secondo pack opening, ho questi due pacchetti da aprire più altri se non sbaglio 3 o 4 pacchetti su un altro account quindi stopperò il video ovviamente e rifarò appunto sull'altro account quindi speriamo di trovare bei giocatori ma sarà veramente molto difficile come regalo della giornata mi hanno dato 1000 crediti quindi sempre buono per cominciare andiamo subito con questo primo pacchetto che è il pacchetto che include solo giocatori speriamo di trovare qualche giocatore decente perché veramente stiamo andando malissimo e infatti troviamo Kasayev che non è proprio il miglior giocatore che speravo di trovare addirittura troviamo un giocatore raro bronzo che fa veramente vomitare Fernandez X Napoli, Kasayev l'abbiamo visto, Giaccherini, Drame che comunque è un buon terzino per la Serie A e sostanzialmente giocatori che preferivo non trovare a dire la verità però vabbè ci è capitato questo mettiamo tutto nel club e torniamo allo store vediamo se questo pacchetto porta bene, secondo me bisogna fare home e poi tornare qui apriamo anche questo secondo pacchetto, ultimo di questo account troviamo Gary Medel, raro, finalmente un giocatore che non sia veramente da buttare Medel è comunque una buona carta sinceramente per la Serie A McArthur, Ruben Fernandez, non so chi sia, Cococo Micelize che è veramente scarso su sto gioco Anibaba che se non sbaglio l'anno scorso era difensore centrale però non vorrei sbagliare, questo con una buona velocità ma sostanzialmente sempre giocatori di merda potevano fare secondo me dei pacchetti in cui si potevano trovare più giocatori rari invece non li hanno fatti comunque adesso stoppo il video e vado con un altro account eccoci qui raga con il nuovo account abbiamo come vedete tra l'altro strabello lo stemma con la torre qui abbiamo allora i pacchetti miei ho un pacchetto promo di quelli appunto dei regali iniziali oro che adesso apriamo e speriamo di trovare qualcuno di buono Aguilar non è molto buono abbiamo trovato anche una maglietta con tratti e forma fisica vabbè sostanzialmente merda mettiamo tutto nel club andiamo ad aprire questi tre pacchetti che sperando portino bene andiamo con il primo sempre pacchetti giocatori nessun pacchetto oro trovo Maiko Lagazzi gran portiere Romulo un altro giocatore bronzo raro mamma mia che schifo Olkovski che non è male vabbè Va in cur Va in culo San Marco vabbè abbiamo trovato questi mettiamoli tutti nel club andiamo con il secondo pacchetto di questo di questo account lo apriamo subito e troviamo Castan Castan niente male niente male questo è un buon giocatore per la serie A vediamo quanto si vende quick list fino a 12.000 parte da 800 niente male davvero Castan è stato un buon giocatore che abbiamo trovato poi sostanzialmente nient'altro Bueno un buon long shot e altri giocatori abbastanza scarsi mettiamo tutto nel club andiamo con l'ultimo pacchetto comunque ci sta Castan davvero un buon giocatore ultimo pacchetto lo apriamo incrociamo le dita e troviamo San José che non è neanche raro abbiamo trovato questo Omar Ramos raro niente di che a dire la verità vediamo un po' qui vabbè San José Cagnas Pienar Pandev e tanti altri giocatori guardate questo che capelli ha sembra che abbia 65 anni e un tizio arabo un 44 vabbè raga questo era il video spero che voi abbiate trovato qualcosa di meglio di me fatemi sapere appunto nei commenti cosa avete trovato se avete aperto tanti pacchetti se comprerete FIFA Points quando iniziate non so a farvi qualche squadra così un po' da confrontarci come sempre vi invito a lasciare un bel like 300 mi piace uscirà un nuovo video commentatemi appunto per quello che vi ho già detto e soprattutto iscrivetevi al mio canale pagina Facebook Twitter Instagram tutti i link li trovate come sempre in descrizione noi ci vediamo al prossimo video bella raga